Io sono un cane, io sono un falso, io sono un falso, ma sapete io ho il vicio di chi di essere grasso, sono grasso come un porco. Bentornati su Dream League Soccer 2024, avete capito, avete proprio capito bene signori miei, stiamo sulla versione 2024. Sì, io lo so che voi sapevate, io sapevo di non sapevo, ah no, quella è un'altra cosa, vabbè, dicevo, io so che ovviamente voi stavate subito a pensare che tutte queste migliorie grafiche, tutte queste impostazioni grafiche diverse fossero frutto di un mio lavoro di editing, ma debbo essere onesto con voi, come ovviamente sempre lo sono stato, e vi debbo dire che no, non è un frutto di un mio lavoro da editor, bensì è finalmente quel cavolo di sviluppatore, cioè vabbè, poi non è uno solo lo sviluppatore, ma dettagli, che si è deciso, in realtà si sono decisi finalmente a darci questo aggiornamento 2024, che seriamente io credevo arrivasse ormai prima il 2024, effettivamente che l'aggiornamento, ma dettagli. Comunque sia, non perdiamoci in frottole, perché signori oggi abbiamo gli sbiaditi, e gli sbiaditi vanno sbiaditi ancora di più, li dobbiamo stracciare. Di fatto, prima di iniziare, vi dico una cosa, adesso io per questo video supremo ho deciso di aspettare appunto quest'altro video supremo su Dreamleague Soccer, per potervi portare la partita contro la Lazio, che vi avevo appunto promesso nello scorso video supremo di Dreamleague Soccer, ma chi l'ha visto il video supremo già sa di che sto parlando, se non l'avete visto dovete andarlo a vedere, è inutile che ve lo dico, abbiamo affrontato il Manchester City, quindi voglio dire, un partitone. Ma a parte questo, io avevo intenzione comunque dalle prossime volte di portarmi io off camera avanti un po' con il gioco, con le partite, nei diversi tornei, e poi insieme fare soltanto alcune partite mirate, perché sennò veramente per finire qui un anno calcistico di questo gioco, ci metteremo 400 anni di vita reale praticamente, quindi non mi sembra il caso. Detto ciò, direi signori, la nostra squadra... No, la nostra squadra non era pronta, porca miseria. La nostra squadra non era pronta in realtà. Ma perché c'è Silva? Perché ci sei tu? Vabbè, chi se ne frega, dai signori. C'è Silva in difesa invece che James, va bene, mi sono dimenticato di toglierlo, perché sì, come vedete ho fatto un po' di cambi nella formazione, cioè un po' di cambi. In realtà avevo messo Silva al posto di James, ma soltanto perché era stanco. E poi, niente. E poi se sbaglio questo gol mi sento male. Niente, poi avevo deciso di fare una mossa molto particolare, ovvero mettere Busquets, che tanto praticamente tra i giocatori che ho è quello più inutile in sostanza. Metterlo in porta. Vabbè, io il gol non lo rivedrei. Preferisco farne altri alla Lazio, piuttosto che mettermi a vedere i replay dei gol già fatti. Bene così comunque, signori. Andiamo avanti. Una macchina da gol dobbiamo essere. Contro a Lazio. Sì, se riuscissimo a riprendere il pallone, però... Intanto il nostro Busquets, portierone, che non si deve mai far segnare, deve rimanere a porta inviolata in tutta la sua carriera da portiere. Cioè, signori miei, ma voi avreste mai detto di vedere Busquets in porta? Cioè, solo in un video del Bug Supremo potete vedere robe del genere. Holland, vai, Holland! Holland, vai in porta, vai in porta! Porca la peppa! Gol, sto, go del sacco. 2-0, signori miei. 2-0, vabbè, il replay ne facciamo a meno. Proseguiamo, proseguiamo. Vediamo quanti gol riusciamo a fare qua. Ai Laziali. Sì, se riuscissimo però a mantenere il pallone senza perderlo, sarebbe una cosa gradita, eh? Eh, cappio. Che qua, dobbiamo sì segnare tanti gol, ma soprattutto non ne dobbiamo prendere neanche uno dai Laziali. Mai nella vita, soprattutto, non così! Non così! Questo, 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 questo è un clone. Questo è un clone. Ma questo è il livello dei Laziali, voglio dire. Questo è il livello dei Laziali. Questo hanno clonato il primo gol che gli abbiamo fatto. ce l'hanno rifatto loro. È incredibile, perché se io non faccio un regalo a partita, cioè, veramente, non mi sento bene con me stesso. Contro il Manchester City, il regalo, l'ha fatto, sempre vanno, fa i regali. Questa volta, di nuovo. Soltanto che quello, con Manchester City, è stato molto più clamoroso, eh? Ma giusto, ma giusto un po' di più. Questo sarebbe stato il rigore, il rigore della serie. Va bene, è bellissimo vedere come De Bruyne stava per terra, poi, manco un secondo dopo, sta in piedi a esultare a 50 metri di distanza, da dove è caduto, ma dettagli. Sì, però, Merode, signori, se questi fan i cambi, ma chi se ne frega, abbiamo preso quel gol. Ma dai, pure alla Lazio? No, però, i regali pure alla Lazio. Io capisco che sono una persona generosa, e che i miei giocatori sono altrettanto generosi, però, regalare gol pure alla Lazio? No, dannazione. Potrebbe essere un bellissimo 3-0, pulito. Vabbè, vediamo di farne altri, almeno. Visto che abbiamo preso gol, voglio dire. Povero Busquets, si è fatto segnare. Per colpa di Van Dijk. Mannaggia, se riusciva a prendere il pallone a Holland, sarebbe stato un altro gol assicurato. E vabbè, ma quando fallo? Ma qua, sì, sì, vabbè, l'arbitro è sempre corrotto, Cioè, pure se non è il Manchester City, l'arbitro è sempre corrotto del cappio. Van Dijk, mandala via. Annaggia, Van Dijk, invece di mandarla via, l'ha passata all'indietro. L'ha passata all'indietro. Io non ci voglio credere, l'ha passata all'indietro, ma siamo sicuri che Van Dijk giochi nella nostra squadra e non sia un laziale. Cioè, come ha fatto? L'ha colpita di testa, però colpendola di testa l'ha mandata all'indietro, dove stava Anderson che voleva fare un altro gol. Ma te lo faccio io il gol. No! 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 Il povero Holland che stava per fare una doppietta ha preso palo. Sì, vabbè. Ma l'arbitro vede falli lì dove non ci sono falli, però, eh. Un po' un po' di pippe c'ha sta arbitro, un po' di pippe mentali. A parte questo, fatemi un attimo rimodulare qua la situazione. Adesso direi che è il turno di Cancelo di stare in porta e Salah lo accentriamo, spostiamo a sinistra Modric e così può andare bene. Va bene, va bene, va bene. In tutto questo non siamo riusciti a fare ancora un gol in questo secondo tempo ai Lazziati. Io me sento male. Io me sento male. Niente. Kane, dovevi tirare e ti sei fatto scippare il pallone. Si è fatto scippare il pallone. Incredibile. Silva, Silva non corre, Silva non corre manco per finta. Ma guarda te se i Lazziati ci fanno un altro gol. Ma guarda te. Cappio, Van Dijk. Dannazione. Dovrebbe essere il nostro difensore più forte. Van Dijk invece sta a fare casino su casino. Allora, mettiamo Coman a destra. Rodrigo al centro. Salah a mo' di seconda punta. Jo Cancelo. Non potete segnare pure a Jo Cancelo. L'avete già segnato a De Bruyne e basta. Eh sì, a De Bruyne. Ciao. Vabbè. A Busquets. Il povero Busquets. Ormai Busquets è diventato così inutile in questa squadra che lo confondo pure con altri giocatori. Però a me non mi piace stati di azione. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. I laziali qua vogliono fare qualcosa di brutto. Ma come Cappio ha fatto? Ma quanto è scriptato? Ma quanto è scriptato sto gioco? Ma come si fa a fare una rete del genere? È impossibile. Poi che Cappio? C'erano tre minuti di recupero un'aumentario a 4 che fa segnare la Lazio. Che tristezza. Cioè pensare che se ne avessi fatto tre gol avremmo pure pareggiato alla fine. Ma De Bruyne una partita? Mi sembra giusto. Allora segnato Kane, Holland e De Bruyne per l'appunto. Assist di Salah di De Bruyne e di Modric. Tiri. Noi quattro loro quattro contrasti vinti noi nove loro sette passaggi effettuati noi 27 loro 36 calci d'angolo 0-0 falli sarebbe dovuto essere 0-0 prenotazioni 1-0 fuori gioco 0-0 Ma che dire aver preso due gol da quant'è che mo che non prendevo due gol? Ah sì dalla scorsa partita contro il Mazzini Niente vabbè sembra che da quando sono tornato su questo gioco se non prendo due gol non sono contento però sottolineando che un gol è un regalo di casa che io devo fare praticamente in ogni partita e il secondo gol è sempre uno script del gioco uno script del gioco che automaticamente un gol te lo deve far subire cioè è incredibile vabbè chiudiamo la trasmissione qua? No 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 io chiedo alla regia altri due minuti se è possibile posso essere regia? posso? sottolineando la trasmissione qua? Sottolineando la trasmissione qua? Sottolineando la trasmissione qua? Sottolineando la trasmissione qua? Sottolineando la trasmissione qua?